Barry, ma non arriva nessuno? Chi stiamo aspettando? Non ne ho la più palle di idea. Una busta. Sarà per me o per te? Scopriamolo. C'è scritto passione, condivisione e ricerca. Uragano di emozioni. Un archeologo tropicale. Ma no, Barry, fai il serio. È più probabile un astronauta. Scopriamolo nella clip. Scopriamolo. Ciao, Federica. Ciao. Ciao. Chi sei? Come mai sei venuta nel nostro salottino? Allora, io sono Federica e sono una ballerina. Ballo da quando ero non troppo piccola, da quando avevo otto anni. Mi fa strano definirmi una giovane artista, perché comunque ho 18 anni. Però comunque c'è la danza. Adesso potrei definire la mia vita, perché è quello che voglio fare da grande, è quello che vorrei portare avanti sempre, anche se in realtà potrebbe essere molto difficile, molte persone non potrebbero capirlo. quindi mi piace definirmi ballerina, ma giovane artista magari è, per me è una parola ancora molto grande, però potrei arrivarci, potrei arrivarci a dire... ma d'arte, assolutamente. Sì, per me è quella più alta, è quella che più rispetto tra tutte, perché diciamo che per me danzare vuol dire condividere, vuol dire comunque rispettare le persone che ti stanno intorno, vuol dire apprezzare anche tutto quello che ti circonda, perché posso dire che in tutto per me c'è danza. Potrebbe essere magari una frase banale, una frase poetica, diciamo, però per me in tutto c'è danza e apprezzo questa cosa perché è bella bella, anche se magari non tutte le persone lo possono capire. È espressione corporea. Sì, allora ti dico, io ballo letteralmente da quando mi sveglio prima che vado a dormire, perché... Preparando il caffè? Sì, no, 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 tu scherzi, ma davvero sotto la doccia, mentre mi lavo i denti, quando mi devo preparare, mentre vado a scuola, mentre sono in macchina, addirittura mi sono resa conto, i miei compagni me l'hanno fatto capire, che mentre facevamo le famose lezioni online, mi hanno detto, Fede ma cosa stai facendo? e io, cosa sto facendo? Ma stai ballando? E no, e infatti, cioè, è bello perché contagio anche le persone, no, che mi sono intorno a ballare e quindi è bello perché, cioè, per me la danza unisce tutti. Chiaro. È un linguaggio universale. Io ballo solo quando ho molta fame e quello che sto mangiando mi piace un sacco. Mi sono accorto che... Eh, beh, danza della gioia, danza della felicità. No, è bello. È l'espressione che vuoi. È bello. Dalla danza della pioggia alla danza della felicità. Della panza. Della panza. No, 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 però, cioè, è bello perché ho delle persone intorno adesso e spero di avere in futuro, delle persone che apprezzino questa cosa, anche perché ho avuto una persona che me l'ha trasmessa, no? E questa persona ha un posto nel mio cuore adesso e ce l'avrà proprio per sempre, per tutta la vita, che è la mia insegnante, Valentina, e a lei devo davvero quello che sono oggi, quello che sarò domani, quello che sarò sempre, perché umiltà, dedizione, passione, talento, rispetto, educazione, cioè, tutte, tutte parole che mi guidano ogni giorno, me le ha insegnate oltre alla mia famiglia, lei, perché è davvero una forza della natura ed è proprio il modo in cui mi definisce forza della natura e quindi avrà sempre un posto speciale per me. Mi emoziono a parlare, a parlare del tuo stile. Allora, il mio stile è il mio stile, cioè, non saprei definirlo, mi piacciono un po' tutti gli stili di dance, cioè, per dirti, ho iniziato col classico, quando ero proprio piccola, però poi ho fatto anche un po' di moderno, poi ho smesso, poi ho rincominciato facendo tutto, hip hop, moderno, contemporaneo, e continuo a studiare il classico perché serve, cioè magari anche una persona che può non interessare, serve tanto per molte cose, però mi identifico più con lo stile hip hop, il moderno, perché per come sono fatta io, anche per il mio corpo, sono quelli che più mi rappresentano e più mi aiutano anche a esprimermi quando devo ballare. E quindi sono anche gli stili che vorrei portare avanti in una ipotetica carriera futura, spero. E no, però apprezzo tutta la danza, per dirti la danza latinoamericana, la danza del ventre, tutti i tipi di danza. A me piacciono... Sì, ci stavo pensando, sì, con le gonnelline, per poter entrare in casa praticamente. No, no, però è bello, bello. Scene vietate ai minori, la gente vomita negli angoli, però sì, ci starebbe. Ma tu ti diverti però mentre lo fai. Una roba, guarda, incredibile. Non ci hai mai pensato? Ma no, sai cos'è? Mi mancano i sonaglini. Trovassi i sonaglini così quasi ci penserei anche. Flamenco anche. Flamingo anche. E visto che mi hai parlato tanto di futuro, hai già dei progetti, degli obiettivi, diciamo, concreti o comunque delle idee che sei sicura di voler portare a termine? Allora, sì, perché ci sto pensando in realtà già da molto tempo. Allora, adesso che ho finito con la maturità, ho finito la scuola superiore, voglio cercare di dedicare quanto più tempo possibile alla danza, anche avendo perso tanto tempo l'anno scorso, causa Covid, ovviamente. Abbiamo perso molto tempo, cioè non è che io ho smesso di ballare, no? Però essendo a casa non hai quel clima che c'è nella sala, no? E quindi ho bisogno proprio, sia da un punto di vista fisico, ma soprattutto anche mentale, di recuperare tutto quello che non ho potuto fare in passato. E comunque no, ho tanti progetti, primo fra tutti un talent per cui ci hanno selezionato, e infatti Bologna è la mia prossima tappa, e poi spero di riuscire a entrare in un'accademia che è anche lì un'idea trasmessa ovviamente da Valentina, però è quello che io vedo nel mio futuro. Adesso come adesso non vedo nient'altro, cioè non ho piani B, cioè quella è la mia unica scelta e quindi punto tutto su quello. E se ad oggi dovessi dare un consiglio alla te stessa del futuro? Di credere sempre nei sogni, può essere banale, no? Però per me è una frase importante perché essendo di un piccolo paese, no? Nel nord Italia, dove la cultura della danza non viene tanto apprezzata e capita, alla me stessa del futuro direi di credere sempre nei propri sogni e di lottare, e di non perdere mai la passione, perché è la cosa più importante. Adesso come adesso ho questo, direi questo. Mi hai fatto venire la pelle d'oca, da casa non si vede mai. Hai anche la pelle d'oca. Ho anche la pelle d'oca. Ma hai portato qualche oggetto in questo salottino oggi? Sì. Allora, il primo è questo qua, questo elastico rosso, che non tolgo mai, ovviamente quando devo per forza, però ce l'ho sempre con me. In realtà non ce l'ho da tanto tempo, ce l'ho da due mesi, due mesi e mezzo, e lo porto sempre con me perché l'ho comprato quando ero con mia sorella. E mia sorella è sempre stata un punto di riferimento costante nella mia vita, perché è come se fosse una seconda mamma. E quindi avercelo con me sempre è come avere un po' mia sorella con me, sempre. E quindi lo ritengo un portafortuna. Nelle occasioni più importanti cerco di tenerlo sempre, anche se magari non sta bene come sono vestita, non mi interessa, anche oggi sono vestita di azzurro, no? Però lo tengo sempre con me perché è come se avessi mia sorella con me, o in generale comunque mia sorella, mio fratello, la mia famiglia. E ho questo elastico. E loro ti sostengono come famiglia, anche tanto tua sorella, visto che ho notato che hai questo bellissimo rapporto. Sì, sì, abbiamo, sono, posso dire che sono contenta della famiglia che ho, sono molto felice e non la cambierei mai, nonostante i difetti, che sono tanti, in ogni famiglia ci sono difetti. Però amo la mia famiglia perché siamo tanto uniti e mi hanno sempre sostenuta, no? Mi ricordo mio papà quando mi portava alle prime lezioni di danza si fermava sempre a parlare con le insegnanti ed era lui che mi diceva Fede, Fede, andiamo, andiamo, anche la mamma. E sono sempre stati felici di vedermi ballare perché sapevano che, soprattutto in questo periodo Covid, che era la cosa che in un certo senso mi salvava. E quindi non posso dire niente perché apprezzano questa mia passione, non mi hanno mai ostacolato e soprattutto mia sorella e mio fratello vedono che quando ballo sto bene, no? E quindi non posso dire niente perché sono una famiglia coi fiocchi, una famiglia coi fiocchi. E quindi, e sono sicura che anche nel futuro mi sosterranno e non avranno nulla da dire perché vedere la felicità dei propri figli penso sia la loro felicità e quindi... Beh, hai 18 anni ma devo dire che sei molto, molto, molto matura. Ho sbagli, Barry. Assolutamente, puoi dirlo forte. È una cosa che mi dicono, mi dicono spesso e sono contenta che passi questo messaggio, no? Perché vuol dire che la mia famiglia ha fatto la cosa giusta, mi ha educato nel modo giusto, infatti rispetterò sempre la loro scelta di come hanno educato me e i miei fratelli perché io lo vedo. Ogni tanto magari ho anche delle idee diverse dalle persone che hanno la mia età, ma non mi dà fastidio, anzi mi ritengo quasi fortunata perché ho un tipo di mentalità che so e perché molte persone me l'hanno detto che mi potrà portare lontano, spero che mi possa portare lontano perché come dice la mia insegnante, come dicono i miei genitori sono cazzuta e quindi lo devo a loro, lo devo tanto a loro e sono felice di avere questo tipo di mentalità e questo tipo di carattere che comunque mi sono formata negli anni, si è formato negli anni anche dopo un certo tipo di esperienza che ho avuto e quindi sono molto contenta di questo. Domanda bruciapelo, colore preferito? Così. Questo qua. Che non è un azzurro? Allora mi piacciono tutte le forme di azzurro, anche questo blu elettrico che c'è dietro di me mi piace tantissimo perché la mia stanza è dello stesso identico colore, blu in generale, blu azzurro in generale perché mi piace tanto, quando ero piccola era rosa, cioè a quelle bambine non piace rosa, no? Però crescendo il blu perché mi trasmette tanta tranquillità e tanta serenità, anche se è blu scuro, però è bello, bello, mi piace un sacco. Ti capisco perché anche il mio colore preferito è l'azzurro, quindi è bello, bello, mi piace, mi piace, infatti anche questa lettera qua, per la persona che l'ha scritta, sapeva che l'azzurro mi trasmetteva questo tipo di tranquillità e infatti sono contenta. E questa lettera quindi? Allora, metto l'elastico, allora in realtà sono una lettera e un bigliettino che io porto sempre con me. Questa lettera ormai ha tanto tempo e risale al primo anno che ho conosciuto Valentina, la mia insegnante, ed è stata una lettera che mi ha dato a fine anno dopo il saggio, o prima del saggio, adesso non mi ricordo, però è una lettera che ha un grande significato per me, perché è stata la persona con cui più ho legato quando ho iniziato a ballare di nuovo ed è la persona che più di tutte mi ha capita subito, perché ho avuto un momento di down, un momento brutto ed è per questo che posso dire che la danza mi ha letteralmente salvata. Infatti anche le parole, adesso non sto qua a leggerla, però so che per me hanno un significato enorme, perché vi leggo solo le ultime due frasi che ha scritto. Ha detto, amati sempre perché da quando sei tornata ad amarti brilli di una luce immensa, vivi, sogna e balla più forte che puoi, con amore vale. E quindi è un qualcosa che mi lega lei da sempre, anche perché comunque la conosco da poco, perché comunque però so che è un legame che porterò avanti per sempre. E poi invece questo secondo bigliettino, in realtà ha pochissimo tempo, forse è dell'ultimo saggio che abbiamo fatto ed è delle mie allieve, delle mie piccoline. infatti mi fa strano sentirmi dire maestra, però perché da quando Valentina ha aperto la sua scuola, mi ha voluta di fianco a lei ed è una cosa per cui la ringrazierò per sempre, perché sono stata quasi la prima persona a cui l'ha detto. E io l'ho sempre accompagnata in questo percorso e non me ne pentirò mai, perché io lo ripeto sempre, è stata forse una delle scelte più giuste che ho fatto nella mia vita. E questo bigliettino in realtà c'è scritto un piccolo ringraziamento da parte delle tue allieve, però anche se sono una frase banale, per me ha un significato immenso, perché sono delle bambine che sono fantastiche e sono legata a loro davvero tanto, perché le ho viste quando erano alte così e adesso una è addirittura alta come me ed è bruttissima questa cosa, perché loro crescono, però mi rendo conto che anch'io sono cresciuta con loro e queste bambine sono importanti perché crescendo magari una persona perde parte del suo lato infantile e loro mi trasmettono ancora oggi tutto quel lato a cui io sarò sempre legata, anche nel modo di essere, sono molto, non infantile, però mi piace divertirmi come quando ero una bambina ed è una cosa che i miei amici mi dicono sempre, non mi vergogno di questa cosa, anzi ne vado molto fiera e quindi questo bigliettino lo porterò con me, lo porterò con me sempre, lo terrò nei miei quaderni, nei miei quaderni personali. E la scatola dei ricordi che uno si fa sempre e poi si porta avanti. Esatto, sì sì perché ne ho tanti di ricordi, però questi sono tra i più belli e significativi che ho. E il terzo oggetto invece? E il terzo oggetto sono delle cuffie che anche queste mi accompagnano da sempre perché sono una ballerina e come vi ho detto prima ballo in qualsiasi momento della giornata e le cuffie mi accompagnano quando devo prendere il pullman, quando cammino, quando vado in giro, mentre vado a danza, quando sono a danza e mi piace avercele sempre con me perché è un modo per restare sempre a contatto con la mia musica, quella che definisco la mia musica. Sono queste? Esatto, sono proprio queste, le famose cuffie col filo e anche se sono state le mie, forse le prime cuffie che ho avuto tutte mie perché prima ero piccola, le condividevo con i miei fratelli, però queste sono state le mie prime cuffie e penso che fino a quando non si rompono le terrò con me perché è un modo per stare sempre vicino alla mia musica, alla mia danza, a tutto quello che sono. Secondo me le terrai anche quando si romperanno perché vedendo anche come sei tanto affezionata ai ricordi le terrai comunque nel cassetto. Sì, sì, sicuro. Infatti ne ho già alcune di ricambio a casa ma queste sono le cuffie, le cuffie scritto maiuscolo, sì sì, queste, poi c'è, c'è sempre un qualcosa che accompagna un sognatore come me e queste cuffie spero mi possano accompagnare in tutti i miei progetti, in tutto quello che il futuro spero possa riservarmi. Hai carburante da vendere, senza neanche ancora averti potuto apprezzare realmente nel nel tuo, diciamo, nel tuo settore, posso dire che secondo me, già solo per l'energia che trasmetti sei una bomba pronta. Grazie. Attenzione che adesso esplode, potremmo far saltare in aria. Attenzione. No, no, allora è una bellissima cosa quella che mi hai detto perché me la sento dire spesso, anche se magari non sono io la prima a credere in me stessa, in quello che faccio, perché comunque ho 18 anni, ballo da non così tanto tempo, Vercelli è una città molto piccola dove non ci sono tante opportunità e dove purtroppo si sente anche la competizione tra scuole di danza. Chiaro. E per dove vorrei studiare io e per quello che vorrei fare io nel futuro, no? Questo ambiente è sicuramente un qualcosa che non ti aiuterà perché la competizione in questo settore, sì, nel momento in cui parli di lavoro è normale che ci sia competizione, però ad una persona di, io quando ho iniziato a ballare, avevo 8 anni, questa competizione non puoi trasmetterla perché cresci in un determinato modo e poi vedi tutto questo mondo in un modo completamente diverso che io purtroppo a 8 anni non sapevo apprezzare ed è uno dei primi motivi per cui ho lasciato, no? E poi quando ho ripreso a ballare a 14-15 anni mi è stata trasmessa questa cosa della danza in un modo completamente diverso ed è da quando ho 14-15 anni che vedo il mio futuro con la danza e quindi è questa cosa. Infatti ti ringrazio per quello che hai detto perché me lo sento dire veramente anche nell'ultimo saggio che abbiamo fatto, anche per dirti i video che metto su Instagram, le persone che vedono, è bello perché vuol dire che quello che faccio, quello su cui punto tutto viene apprezzato e piace alle persone che mi stanno intorno, primi fra tutti i miei amici, le persone che conosco ma anche persone che io non conosco, con cui magari non parlo mai ed è bello perché vuol dire che piace, che puoi. E se qualcuno volesse andarti a seguire su Instagram, la tua pagina Instagram è? Federica Mercelli, c'è poca fantasia, però stavo pensando di cambiare il mio nome su Instagram magari in un futuro, se mai dovesse avere, chiamalo nome d'arte, adesso io mi identifico semplicemente come Federica perché è il mio nome, è quello che sono, però non nego che in un futuro potrei cambiare nome che possa comunque ricordarmi da dove arrivo, da dove vengo, quali sono le mie radici, perché quelle non si... È fondamentale. Sì, quelle sì, non si dimenticano mai. Io ti ringrazio tantissimo, ti faccio un auguro molto speciale che è quello di poter sempre tenere questi oggetti che ti trasmettono qualcosa nel cassetto ma di poter tirare i tuoi sogni fuori dal cassetto e di poter prendere il volo, perché quelli hai anche trasmesso un messaggio molto bello e importante, ovvero quello di non aver paura di realizzare i propri sogni e questa forse è la cosa fondamentale nel mondo dell'arte ma nel mondo e nella vita in generale, quindi ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio voi, è stata un'esperienza bellissima. Grazie. Vi ringrazio, siete stati gentilissimi e no, ancora una cosa che se posso dire alle persone che guarderanno questo video, veramente di non credere mai di essere troppo piccoli o di essere troppo ingenui o di essere non troppo pronti per i propri sogni, perché nessun sogno sarà mai troppo grande per una persona che ci crede davvero tanto. Vivi, danza, sogno. E domandona, chi mi consigli di invitare in questo salottino a fare questa chiacchierata come hai fatto tu con noi? Allora, banale dirlo la mia insegnante di danza, Valentina. E' un cantante che, anche se non conosco direttamente, ho avuto modo di sentire le sue canzoni e si chiama Federico Gioia. Lui non mi conosce, sono sicura che non mi conosce, però ho sentito delle canzoni e potrebbe essere bello per lui questo tipo di esperienza, in generale per tutti gli artisti. Ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio voi. Vi invito ad andare a seguire Federica sul suo profilo Instagram, perché così potete vedere cosa fa e quali sono tutte le sue bellissime coreografie, i suoi bellissimi balletti, tutto ciò che fa al suo mondo. Vi ringrazio per averci seguiti e ci vediamo alla prossima nel salottino di Via Morosone. Ciao!